Dunque, io parto da un punto di vista leggermente diverso, nel senso che Nosadella 2 è un progetto che io ho aperto nel 2007 ed è un progetto assolutamente privato, poco pubblico, è un progetto privato nel senso che parte da una mia necessità personale di forse andare alla ricerca di un mio sguardo soggettivo e di un incontro con pubblici che poi ho scoperto solo in un secondo momento. Nosadella è un programma di residenza che lavora adesso sull'arte pubblica, cioè sulla produzione di progetti di arte nel contesto pubblico ma questa identità è qualcosa che è nata nel tempo, non è nata dall'inizio appunto, è all'interno di una casa, è una casa privata che è la casa dove io vivo, quindi è totalmente un'esperienza privata che diventa anche spazio pubblico. Allora, io quello che, adesso è molto difficile sintetizzare appunto da questo punto di vista completamente diverso però quello che è successo dentro a questo spazio privato nel sfondare i confini della casa e nell'arrivare nello spazio pubblico è arrivato grazie all'intervento artistico, nel senso che sono stati gli artisti stessi che di volta in volta ospitati in residenza hanno sfondato questa parete e hanno invaso il contesto pubblico cercando ovviamente anche il coinvolgimento di persone che poi sono diventate, diventano di volta in volta il nostro pubblico se così si può chiamare o se no i nostri interlocutori, forse a me piace di più parlare di interlocutori ed è un... l'esperienza che si fa con gli artisti nello spazio pubblico è un'esperienza che non va a lavorare sui grandi numeri sul grande pubblico ma che va a lavorare con i singoli soggetti, quindi con il singolo... la singola individualità che va a comporre il grande pubblico, quindi questo è un approccio completamente diverso quindi noi non muoviamo grandi numeri ma anzi cerchiamo delle due una relazione sempre abbastanza diretta con dei piccoli gruppi attraverso, diciamo, a me piace chiamarla appunto un passaggio da una cultura diciamo dell'evento e quindi dell'avere, del possedere l'evento alla cultura invece dell'essere quindi del fare esperienza di qualcosa e quindi attraverso dei progetti che... i progetti che proponiamo cerchiamo sempre di offrire un'esperienza che offra un varco di straordinarietà all'interno dell'ordinarietà invece della vita delle persone, quindi andare a intercettare quei pubblici laddove loro non vogliono essere intercettati e quindi per strada e quindi in contesti dove trovi la disponibilità... dove la cosa interessante è trovare la disponibilità del tempo e dello spazio per andare a intercettare però quei pubblici che non sono lì per quello insomma e volevo farvi vedere due progetti brevemente ok, questo è un progetto che abbiamo fatto nel nostro quartiere e con quest'artista serba Alexandra Giukovic che ha sostanzialmente anche su una commissione tra l'altro di un settore del comune dell'urban center che si occupa ovviamente di qualità urbana e quindi insomma di sviluppo dei progetti che vanno a migliorare e trasformare il tessuto urbano Alexandra ha proposto rispetto a una domanda invece che ci è stata fatta potete invitare un artista che faccia delle interviste alle persone ovviamente gli è stato risposto che l'artista che fa le interviste alle persone non è che si può invitare Alexandra ha preso una macchina, una Super 8 e ha deciso di invitare le persone a scegliersi il proprio spazio all'interno di due piazze in particolare in cui eravamo invitati a lavorare e ha chiesto a queste persone di ballare in questo spazio e quindi ne è venuto fuori un ritratto di questi spazi urbani in cui le persone hanno scelto in qualche modo di collocarsi e di relazionarsi allo spazio però attraverso la loro fisicità e quindi anche abbattendo tutta la questione dell'imbarazzo, dello spostamento del prendersi 30 secondi per attraversare quello spazio e poi collocarsi e fare questa cosa e regalarsi appunto questo frammento di straordinarietà o di pensiero o di regalo, di offerta o di dono che poi si sono portati a casa questo per esempio ovviamente ognuno ha interpretato come voleva il tema del ballo Oddio dove è andato? questo secondo progetto invece è un progetto di un artista finlandese, Edi Lunabba che ha offerto in occasione di un festival che c'è a Bologna ormai da 10 anni dedicato alle tematiche di genere ha offerto ai passanti in diverse location della città un'esperienza di far passanti donne di farsi, di avere la barba, di farsi la barba per un giorno e quindi ha inventato questo barbiere mobile in giro per la città ovviamente facendo anche tutta la pubblicità annessa quindi con i volantini, i modelli, il catalogo dove scegliere le barbe e ovviamente ne sono venute fuori una serie di ritratti che poi sono diventati il suo lavoro fotografico che da Bologna poi è partito e è andato a Helsinki, a Stoccolma in varie altre città questi sono due esempi di interventi che noi abbiamo fatto in questi ormai sette anni di attività e ve li ho presentati perché mi interessa appunto aprire spostare magari un attimo il discorso che è quello che ovviamente di cui io conosco più il sistema che è quello appunto di un pubblico preciso che ha bisogno e che ha voglia di fare questo tipo di esperienze quindi un pubblico non generico, non un pubblico di massa che segue ma un pubblico che cerca infatti la mia domanda che ho portato per oggi era proprio che cosa va a cercare il pubblico dell'Expo o il pubblico anche dei grandi eventi e soprattutto il pubblico ha gli strumenti per cercare sa cercare o non è più capace ha gli strumenti per cercare ma non è più capace di scegliere di cercare quello che realmente gli interessa cioè come si diceva ieri si sposta da uno spazio a un altro e quindi diventa un lavoro di un'attività di spostamento ma non un'attività di davvero consapevolezza del contenuto che tu vai a scoprire dentro a quello spazio dentro a quell'evento, dentro a quella manifestazione quello quindi che forse mi varrebbe da dire rispetto anche ai discorsi che abbiamo fatto sia ieri che oggi rispetto anche a questo è parlato molto di gerarchia di gerarchia anche degli spazi io credo che forse la parola è un po' pesante però si possa parlare anche di gerarchia forse di responsabilità cioè di ricollocare quelle che sono le responsabilità dei vari attori in una città per restituire al pubblico una consapevolezza che ha completamente perso il pubblico non sa il pubblico è abbastanza almeno dall'esperienza che che mi sembra insomma di farne è un pubblico che è sempre più inconsapevole e non sa cercare perché non sa che cosa gli viene offerto è un pubblico disinformato un tema fondamentale che secondo me non è stato trattato è il tema della comunicazione di una informazione che è diventata comunicazione ieri qualcuno parlava del fatto dell'evento che è stato sostituito dalla comunicazione la comunicazione diventa l'evento stesso ed è completamente l'evento in sé è svuotato della sua identità nel senso che si va all'expo o si va alla biennale ovviamente non gli addetti ai lavori ma un pubblico ma senza sapere esattamente che cosa c'è lì dentro e quindi ci si muove senza una consapevolezza semplicemente perché ci si deve muovere in particolare poi avevo visto in questi giorni ma anche tempo fa appunto delle pubblicità per strada proprio dedicate all'expo e un paio di queste dicono portate chi volete oppure una festa con 7 miliardi di invitati ma portate chi volete punto dove a fare cosa chi oppure una festa con 7 miliardi di inviti ma è una festa l'expo non è una festa che cosa ci trovo lì dentro come si struttura per cui ovviamente io butto lì delle questioni perché la questione che mi interessa sollevare è proprio questa mancanza di precisione anche che spesso caratterizza questi grandi eventi ma non solo i grandi eventi perché tutta questa iper comunicazione svuota proprio dei contenuti lasciando solo lasciando solo questi spazi che poi non sono più abbiamo visto neanche degli spazi fisici ah sì volevo sempre rispetto a questo discorso della gerarchia delle responsabilità volevo concludere portando scusate io ho bisogno di appoggiarmi a degli eventi o comunque degli esempi abbastanza precisi come i progetti in questo momento c'è un doppio evento a Bologna che è la mia città che è molto sintomatico rispetto a questa situazione da un lato c'è una mostra che viene che ripropone diciamo la politica dei grandi eventi alla Goldin di qualche anno fa che è la mostra della ragazza con l'orecchino di perla dove la comunicazione di questo quadro di Vermeer viene viene ormai bombardata in tutta la città non solo dai manifesti ma le pasticcerie hanno i cioccolatini con il quadro i bancomat ti danno le pubblicità qualsiasi angolo in qualsiasi posto tu vada hai questa immagine ed è e ci sono le folle ci sono le folle di fronte a una grande mostra che sembra che a parte che è fuori scala completamente rispetto a una città come Bologna però che sembra essere il grande evento della città di questo momento e quindi ci sono le file fuori forse per la prima volta in una città come Bologna e la gente non sa non sa in realtà che cosa sta andando a vedere perché non sa che cosa c'è dentro a parte la donna con l'orecchino di perla e no ecco la cosa interessante è dov'è questa mostra è dentro a Palazzo Fava che è uno spazio di una fondazione bancaria privata che fa concorrenza sostanzialmente ai musei per cui ai musei civici ai musei contemporanei al museo d'arte contemporanea ma anche agli altri musei e la gente invece il pubblico scusate non è la gente il pubblico pensa di di andare chiede alle persone a me è capitato spesso di trovarmi bloccata in queste file e chiedere ma cosa fate e loro pensano che sia il comune che faccia questo grande evento dall'altra parte c'è un mambo che è il museo d'arte appunto d'arte moderna di Bologna che sta proponendo proprio in questi giorni questo finisce oggi un festival ormai anche qui decennale Live Arts Week si chiama dedicato alle arti performative nato da un'associazione una piccola associazione locale che è Xing che probabilmente alcuni di voi conoscono che da due anni fa questa è la terza edizione ha occupato in qualche modo occupato non in termini illegali ovviamente ma si è appropriata dello spazio del mambo per ospitare il festival il festival che prima invece era diffuso in città in varie location e in vari contesti appunto pubblici e anche lì quindi il ruolo del museo pubblico che ospita un festival privato è dedicato a un festival poi che è un festival d'élite un festival di nicchia perché è un festival di altissima qualità ma per veramente non per addetti ai lavori ma per gli addetti ai lavori degli addetti ai lavori e quindi per un pubblico che conta un centinaio di persone forse contro una fondazione una strategia di mercato che poi c'è dietro a questa fondazione che è un grosso progetto che si chiama Genius Bononi e che è proprio il monopolio dei palazzi storici bolognesi in cui impiantare proprio il proprio il proprio contro museo rispetto a quello che è il museo pubblico quindi la mia domanda appunto è la mia domanda la mia questione una domanda che faccio a me stesso ovviamente che pongo anche a voi è c'è forse bisogno di un po' più di onestà e anche di chiarezza nell'informazione e di ribilanciamento anche della gerarchia degli spazi e dei progetti io avrei fin applausi